Cosa credi di fare? Il maiale, lo tratto io. Lo tratti tu? Sì. Siamo a West Side Story, ci battiamo a mezzanotte? Certo. Sei il furgone del formaggio, niente invasione. È buffo, ho notato che in quelle frittelle di jalapenos che servite voi... Oh, la mia grande invenzione. C'è la ricotta dentro. Oh, ma dai, è un pezzettino, niente rispetto a quel lenzuolo di pancetta che stendi sui tuoi sandwich. Sono panini, panini al gorgonzola con un assaggio di pancetta, anche i loro pazzeschi. Guarda che anch'io ho le mie invenzioni. Vuoi la guerra? Guerra sia. Il tuo special contro il mio special. Chi ne vende di più stasera vince. Va bene. Allora, se vinco io, vieni a farti una bevuta con me. E se vinci tu, vieni a farti tre bevute con me. Che gentile. Ci vediamo in campo. Non è che non ci dorma la notte. Certo. Chi è quello? Uno che stava al liceo, un tacchino pazzesco. Io me lo farei arrosto. Non essere volgare, non è il caso.